Il principe Carlo, il principe che ha passato la vita a cavallo. Perché a cavallo? Perché da quando ero piccola mi ricordo le fotografie sui giornali di Carlo a cavallo, a cavallo insieme a Camilla, lo riprendevano di nascosto i paparazzi mentre era a cavallo con Camilla. Il principe impopolare che ha passato la vita ad aspettare di poter sposare Camilla, ha aspettato una vita al trono. Ricordiamo tutti con simpatia, se vogliamo, la regina, ricordiamo tutti con affetto Lady Diana, la bellissima principessa Lady Diana, per le sue imprese umanitarie, per quel suo carattere dolce e sensibile e per la sua storia sfortunata, per il suo matrimonio sfortunato con quell'uomo senza attributi di nome Carlo. Quindi, care donne, ricordatevi che non tutti i principi sono principi, ma alcuni di questi principi sono Rospi, uno di questi è Carlo. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale di Amore Psiche con la Pink, iscrivetevi al canale dell'amore, quello vero. Ciao a tutti. Grazie a tutti.